Vedete non c'è la nonna, però se mettiamo la madre è un po' vecchio, proviamo, io volevo la madre comunque, ok, non è male, no no non è male, ok dai possiamo ottenerlo, ah puoi anche giocare tramite cane e gatto, ma per quale motivo uno dovrebbe avere tramite la genetica un cane e un gatto, non lo so, però, ok, andiamo avanti, mi da un punto esclamativo, ok, eh sì, la madre è un membro, oh se no c'è un membro dell'unità familiare, forse, sì, allora lasciamo un membro dell'unità familiare, quindi anche il video dovrebbe esserci, ok, no però forse credo non sia la stessa cosa, cioè credo che lo prenda tipo come conquilina, no, allora mettiamo madre, che non volevo che fosse solo una conquilina, ok, ok, bene, allora questo era terribile questo vestito da lavoro, quindi lo cambiamo, assolutamente, vediamo, oh, questo non resta male, anche qui, oh, aspettate aspettate, vediamo se, ah ah ah, il giallo le dono, quasi quasi uscire con il giallo, queste scarpe starebbe bene se fossero di un altro colore, perché bianche proprio no, e anche nere, no, non ce le vedo, cioè ci starebbe bene, ma no, cambiamo, proviamo, no, queste qua, vediamo, lo so, eh, insomma, si intonano, devi rilasciare queste, oh mio dio, terribile, che via scarpe ci ha messo, e poi questi occhiali, ho un certo fascino per fare ginnastica, per me la vorrei, allora, per fare ginnastica facciamo un paio di leggings, forse prima devo scegliere la maglia, però no, ho blu, sono bellissimi, e io le metterei una maglia larga, perché ce la vedo con questi leggings, no, cosi no, o più lunga, o sennò più corta, no, non c'è, questo, che se non sbaglio ho fatto da P. Ariel, quella di Tik Tok, no, però i colori non mi piacciono, per dire gianno, secondo me non c'è, oh, questa mi ho, che già non ci sta, nera, no, blu, è quasi lo stesso blu, 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 potremmo farlo blu, sì, dai, lasciamo blu, e un paio di scarpe blu, tipo questi, eh sì, nere, ma che genio, è tutto blu, lo facciamo, per andare a letto, sì, però la maglia no, quindi le cambiamo la maglia, ma le potremmo mettere una canottiera, io ce la vedrei bene con la canottiera, perché la fa strana questa canottiera, è tipo, perché è così chiusa in corpo, se lo corregi, no, 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 non mi piace, questo, vediamo, non è malic, non è malaccio questa, sì, le ciabatte non mi piacciono particolarmente, c'è il colore più che altro, non è ok, la festa, i momenti imbarazzanti, la festa lontai, la mettiamo un altro vestito, vediamo, ma cos'è sta roba, ah, diciamo, praticamente gira come se dovesse andare a mare, vabbè, dopo, uno può fare quello che vuole, però, insomma, da festa, cioè, a parte che io, molto probabilmente, mi vestirei così anche, vabbè, ma quali sono dettagli, ah, ma sapete che questo non è mica male, però non scegliamo sempre blu, che succede, che succede, che succede, vediamo questo, questo lo scelgo molto spesso, ma sapete che non è stato mica male, l'ho detto anche quello di prima, lo so, lo so che l'ho detto, oh, azzeccato, madonna, il rosso sta benissimo, effettivamente c'è i capelli rossi per un motivo, queste qua, vediamo come le stanno, non le ho mai utilizzate, però, sapete che, non stanno mica male, quasi quasi la lascio così, tenete quanto vi, e sì, non li troppo mai, quindi, non mi piace assolutamente l'abbinamento, vomitevole, io vorrei mettere una cosa tipo così, sì, 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 no, 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 scherziamo, proviamo con qualcos'altro, e poi, quando si dice no, no, scherziamo, non è vero che scherziamo, hai cambiato idea, cioè, parliamo chiaro, le stanno troppo semplici, no, scherziamo, com'è questo, il piano le sta molto bene, non lo so, non mi convince, no, queste non mi piace, queste non le ho mai usate, perché secondo me sono un po' ridicoli, cioè, qui, questa roba, oppure questa, cioè, ti fa le tette anche se non le hai, in sostanza, questo non l'ho mai utilizzato, non lo so, eh, però, non le sta così male, a parte gli scherzi, però non so se fare queste righe, o queste righe, beh, di traverso non mi piace, mi direi queste righe, se mi piace un po' di più, e, possiamo metterle queste qua, ma non credo ve le servono le penne, e fino a ora i minimi, ok, per i momenti hot, sono molto simple, come al solito, allora, per i momenti più caldi, direi che si potrebbe fare, u, 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 u Non mi intusiasma particolarmente, oh ma questa è nuova, com'è, com'è, com'è? E' una mica male questa maglia, è la prima volta che la vedo, insomma il rosso lo sta proprio bene, adesso le lascio il rosso. Poi vediamo, questa maglia non lo sta particolarmente male, quasi quasi. No, beh però, anche se c'è quel verde lassù non sta male così in zona, si dà, e un paio di, mettiamoli sotto, cosa dite? Eh, guardate queste zeppe, non stanno mica male. Guardiamo diversi colori, solo perché da lì non è che li vedo molto, quindi adesso li clicco tutti. Questo è il mio, quello che secondo me ci sta meglio, ok? Passiamo al freddo, anche qui sempre cose super imbarazzanti, ma che cosa li mettono? Perché? Per quale motivo? Io vorrei vedere i tipi di look solo per, beh, non è mica male, proviamolo. Ah, ma perché sembrano sempre belli su, su questi cosi, poi sui visi mi fanno schifo. Però le orecchini, gli orecchini stanno bene, proviamo questo look. Ma questa non è male, male che cambiamo colore, però devo dire che il giallo non sta male. Però vediamo tutti i tipi di look, no? 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 Beh, questo è il mio preferito, però non lascerei giallo. La lascio anche truccata, sì dai, perché mi piace abbastanza. Ok, quindi questo è il nostro primo, sì, concluso. Passiamo al secondo, allora. Il secondo lo decidiamo noi. Adesso un po' solo per la voce. Lo sentiamo un attimo. Ah, 2B, sì. Io lascerei questa. Ok, no, non ho deciso la camminata di quella di prima, quindi adesso la guardiamo, ma penso di lasciarle a quella normale. Questa, però, secondo me le si atinge molto utile, lascio questa. Invece a questa... Invece a questa... Le lascerei... No, facciamo una nonna energica. Una... Ah, giusto, non è più nonna e mamma. Vabbè, una mamma energica. Quindi io farei questa qua. Una mamma molto energica. Lo posso fare a ricordarmi che sono o meno sono o meno. Allora, selezioniamo una aspirazione. Io direi... Io direi... Non lo so... Mi ispira... La... Conoscenza. Però... Non lo so... Mi aspetta altre cose. Mi aspetta altre cose. Io di qualcosa. Io direi... Ai loro famiglia. Per ci anni successivo. E' ma ne hai mai una felicità. In realtà che è successo nella vita. E hai le famiglie amici. Se hai un'unità familiare di terra. Io vorrei fare un'unità familiare di terra. Quindi proviamo con natura, con la friccia, botanista, coltivare piante, diventare un cervello esperto, non sarebbe male. Dai, questo. Per quanto riguarda questo direi, io direi allegra magari, sicuramente magari anche amante dei gatti, però non sarebbe male. Amma l'aria aperta, amma dei gatti. Ok. Ok. Allora, da giorno, beh, non l'hanno vestita malaccio. Non cambierei magari solo la maglia perché non mi spiega particolarmente. Vediamo. Ah, non mangiavo le peggio. Ma sapete che non le sta mica male? Sì, fosse di una... Beh, una no. Una no. E dai, secondo voi quanto imparerò a dire madre invece di nonna? Oh mio Dio. Io tutto, io tutto, vi prego. Vabbè. Qualcuno mi dica, qualcuno che ha dei simplici, mi dica quando è che effettivamente ci azzeccano con gli occhiali, le collane, queste cose varie perché da me, mai. Allora, dalla forum, vediamo. Lei sta molto bene con le conne, comunque. Cioè, non ho notato da prima. Prima aveva una conna, giusto, sì. Però questa non mi piace. Proviamo quei vestiti, vediamo se troviamo qualcuno proprio carino. Questo, andiamo a me lo stanno. Non so. Ah, 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 ah. Oddio, questo? Ma questo non è male. Se lo facciamo di un altro colore, tipo blu, no, viola. Bene.